Inizia ufficialmente la stagione dei premi perché nella notte che appena trascorsa rispetto a quando sto pubblicando questo video è stata celebrata chiaramente la cerimonia dei Golden Globe con tante premiazioni con tanti film con tanti artisti in gara e chiaramente questo è l'inizio di un percorso che poi ci porterà lentamente fino alla notte degli Oscar che viene considerata come sempre la massima rappresentazione per quanto riguarda proprio le cerimonie di premiazione poi c'è chi la snobba chi invece la guarda chi l'apprezzo la disprezza però è sempre anche divertente e bello poterne parlare ed infatti oggi faremo un recap veloce di quelle che sono state le premiazioni durante i Golden Globe chiaramente relativamente soltanto al cinema perché vi ricordo che la cerimonia dei Golden Globe prevede sia la presenza di premi per quanto riguarda proprio il mondo del cinema ma ci sono anche delle premiazioni legate anche al mondo delle serie tv ora siccome io di serie tv ne mastico molto poco chi mi segue da un po' lo sa ne guardo a volte mi capita anche di iniziarle e di terminarle però sono molto più legato come sempre al mondo del cinema quindi andremo a commentare soltanto quelle con tutte quelle che appunto sono le premiazioni e le categorie chiaramente le premiazioni che si sono svolte durante la nottata io prima di iniziare vi ricordo rapidamente di iscrivervi al canale innanzitutto se non l'avete fatto attivate la campanella poi se il video vi sarà piaciuto potete supportarlo lasciando un like soprattutto commentate qui sotto con quelle che sono le vostre considerazioni sui premi che andremo ad elencare se siete d'accordo con le premiazioni se invece no se avreste preferito magari altri artisti o altri film premiati durante la notte dei golden globe fatemi sapere tutto nei commenti e poi vi ricordo in descrizione trovate anche i link della mia pagina facebook della mia pagina instagram e del mio canale telegram se volete mi potete seguire anche lì ma direi di mettere bando le ciance anche perché non so quanto riuscirà a reggere la mia voce purtroppo l'influenza che sta girando ha colpito anche il sottoscritto quindi direi davvero di iniziare questa rapida rassegna delle varie candidature con le relative premiazioni fare qualche commento ripeto e poi eventualmente approfondiamo qui nei commenti allora innanzitutto voglio iniziare con la categoria cinematic and box office achievement una categoria molto particolare che non abbiamo anche diciamo nelle altre cerimonie di premiazione ed è ovviamente legata a quello che è stato il successo commerciale di un film è il film che ha vinto in particolar modo è barbie prevedibilissimo bisogna dirlo è un film che può essere in qualche modo discusso può essere criticato lo si può in qualche modo anche smontare poi in tanti in realtà lo hanno anche apprezzato da un punto di vista artistico però è ovvio che il successo commerciale è davanti agli occhi di tutti quindi era anche abbastanza normale che questa premiazione andasse proprio al film di greta gerwig quindi cinematic and box office achievement per il film barbie poi passiamo alla categoria miglior film d'animazione e qui abbiamo la prima non dico sorpresa ma comunque la prima la prima premiazione molto interessante anche chissà anche in ottica oscar perché perché il film d'animazione che ha vinto questa categoria è il ragazzo e l'airone di ayao miyazaki ovviamente targato studio ghibli film che purtroppo nel momento in cui sto registrando questo video io non ho avuto la possibilità ancora di poter vedere io mi auguro che lo tengano in sala ancora per alcuni giorni in maniera tale che appena mi riprendo mi fionderò al cinema per poterlo guardare mi incuriosisce in maniera spropositata devo dire perché questo succede sempre con i film dello studio ghibli succede sempre con i film del maestro miyazaki e tra l'altro sta avendo anche un successo secondo me davvero inaspettato perché in tanti anche in italia lo stanno andando a vedere e devo dire che un come dire un passaparola un successo così importante per un film dello studio ghibli del maestro ayao miyazaki io a memoria non lo ricordo per lo meno ripeto qui in italia poi all'estero è un'altra storia però ecco sono contento appunto per il maestro miyazaki premi appunto golden globe per il miglior film d'animazione per il suo film il ragazzo e l'airone passiamo alla miglior canzone originale il film o per meglio dire la canzone appartenente ad un film ben preciso che conquista questo premio è la canzone what was i made for film del film barbie anche qui io credo che anche per quanto riguarda gli oscar che appunto arriveranno fra qualche mese ci saranno poche sorprese le canzoni del film barbie la faranno da padrona e quindi io credo che anche in quel caso e anche nelle premiazioni successive ai golden globe barbie riuscirà in qualche modo a piazzare importanti premiazioni proprio per quanto riguarda le canzoni in questo caso appunto la canzone premiata è what was i made for appunto del film di greta gerwig migliore colonna sonora il premio in questo caso ecco qua diciamo le cose si distaccano il premio per la miglior colonna sonora va ad openheimer e qua iniziamo appunto quello che il come dire il leitmotiv di questa serata quello che il fil rouge di alcune premiazioni perché openheimer di christopher nolan diciamo che ha piazzato qualche colpo interessante la colonna sonora è sicuramente tra queste e io devo dire che sono soddisfatto perché proprio la colonna sonora del film è uno dei tanti punti di forza della pellicola di christopher nolan e quindi un premio che secondo me ci sta e quindi sono contento proprio per questo si va si comincia anche a delineare quella che è l'importanza del comparto tecnico di questo film e sicuramente ripeto tutto ciò avrà degli diciamo degli svolti importanti anche nell'ottica appunto delle prossime premiazioni e chissà appunto in ottica oscar quindi miglior colonna sonora openheimer di christopher nolan miglior film internazionale in questo caso avevamo anche la presenza di io capitano di matteo garrone però come era anche abbastanza prevedibile il premio è andato ad anatomia di una caduta film che anche qui purtroppo io non ho ancora avuto la possibilità di di recuperare anche perché la distribuzione nelle mie zone non è stata granché come dire positiva il film non credo neanche sia presente più in sala perlomeno appunto da quelle che sono le mie parti però ecco ascoltando quelli che erano i pareri dei critici ascoltando il parere anche di diverse persone anche qui su youtube che avevano avuto già la possibilità di guardarlo era un premio abbastanza prevedibile e da quello che si capisce lo sarà anche in ottica oscar per quanto ovviamente si si continui a fare il tifo per il nostro film io capitano di matteo garrone speriamo che venga anche scelto tra i cinque film che concorreranno appunto per la statuetta però miglior film internazionale e golden globe appunto andato ad anatomia di una caduta fatemi sapere chiaramente che ne pensate di questo film se lo avete già visto passiamo poi alla miglior attrice non protagonista il premio va a da Vin Joy Randolph per il film The Old Overs un film da tenere d'occhio secondo me è un film da dover andare a recuperare in sala nel momento in cui arriverà anche qui da noi finalmente direi al cinema The Old Overs è un film che all'estero negli stati uniti è già stato distribuito da diverso tempo da diverse settimane da noi se non ricordo male dovrebbe arrivare il 18 il 19 gennaio comunque intorno alla metà di questo mese è un film che io ho già puntato da parecchio tempo anche per un altro motivo che vi andrò fra poco a spiegare però ecco già è un primo premio importante quello che ha avuto la possibilità di conquistare per la miglior attrice non protagonista appunto da Vin Joy Randolph staremo a vedere ovviamente non posso commentare il film non lo possiamo commentare perché ancora non è uscito passiamo poi e qui sono davvero contentissimo alla categoria miglior attore non protagonista ed il premio è andato a Robert Downey Junior per Oppenheimer io sono davvero felicissimo per Robert Downey Junior un premio verso il quale chiaramente nutrivo speranze importanti le nutro ovviamente anche in ottica Oscar ma anche per quanto riguarda le altre le altre cerimonie è un film che ha dimostrato qualora ce ne fosse bisogno in realtà e non ce n'era bisogno la straordinaria bravura di questo attore che secondo me per troppo tempo è rimasto vincolato a quello che è il personaggio di Iron Man nell'ambito del Marvel Cinematic Universe per quanto in realtà poi abbia avuto anche la possibilità di partecipare ad altri film ma nel momento in cui si è distaccato definitivamente probabilmente da Iron Man nuovamente dedicandosi a dei progetti chiaramente diversi da quelli dell'MCU ecco Robert Downey Junior ha piazzato la prova attoriale forse la migliore della carriera non lo so perché comunque Robert Downey Junior ha dato vita a diverse prove attoriali interessanti basti pensare a quella nei panni di Charlie Chaplin ormai una trentina di anni fa ma sono contentissimo per lui sono davvero felicissimo però Robert Downey Junior chiaramente vincitore per quella che è stata la sua prova in Oppenheimer procediamo poi con la categoria miglior attrice in un film commedia o musical vi ricordo sempre che nell'ambito dei Golden Globe c'è sempre questa distinzione nella differenziazione dei film in film drammatici e film commedia o musical poi in realtà i film che appartengono a queste due categorie in qualche modo si possono anche discutere perché soprattutto nella categoria commedia o musical entrano a far parte delle pellicole che non necessariamente sono dei musical delle commedie però vabbè è una cosa che ci portiamo avanti da sempre e la miglior attrice in un film commedia o musical è stata appunto premiata nella figura di Emma Stone per il film povere creature di Yorgos Lantimos altro premio abbastanza prevedibile di cui già si parlava è un film che ovviamente qui da noi ancora purtroppo non è uscito arriverà anche questo nel corso delle prossime settimane di gennaio Emma Stone quindi vince quella che è la appunto il premio Golden Globe per povere creature film che mi incuriosisce tantissimo di cui si dice un gran bene addirittura se ne parla come di un potenziale capolavoro di Yorgos Lantimos staremo a vedere a me i film di Lantimos generalmente piacciono proprio per questo suo modo anche particolarmente eccentrico di mettere in scena quelle che sono le sue storie già da quello che si vede dai trailer dalle prime immagini promozionali sembra davvero qualcosa di interessante cominciamo ad avere le prime certificazioni con questi premi quindi miglior attrice in un film commedia o musical Emma Stone per povere creature passiamo poi alla categoria miglior attore in un film commedia o musical quindi versante maschile e qui ritorniamo al discorso che facevo prima perché perché il premio e sono anche qua contentissimo è andato a Paul Giamatti per il film The Old Overs stesso discorso che facevo poco fa per la miglior attrice non protagonista film che deve ancora uscire quindi spero di poterlo vedere il prima possibile nel momento in cui arriverà in sala ma davvero io sono non contento di più per Paul Giamatti che ha un riconoscimento davvero prestigioso per quanto riguarda appunto la sua prova nel film The Old Overs che spero appunto di vedere Paul Giamatti è un attore per il quale io stravedo è un attore secondo me tra i più sottovalutati della storia recente del cinema io ho dedicato a Paul Giamatti anche alcuni video un video riflessione il video 5 film da alieno per quanto riguarda questo attore perché è davvero un grande attore probabilmente non ha avuto fino ad ora perlomeno la possibilità di ottenere il cosiddetto ruolo della vita per poter dimostrare al mondo intero davvero di che pasta sia fatto chissà che magari appunto non sia arrivato il momento anche se è ovvio che pensando in ottica Oscar le cose potrebbero farsi molto più difficili perché chiaramente agli Oscar non c'è più la differenza tra film drammatico e film commedia musical quindi è un calderone nel quale andranno a partecipare tanti grandi artisti staremo a vedere ovviamente se Paul Giamatti potrà dire la sua però nel frattempo si prende questo Golden Globe che mi rende davvero contento quindi miglior attore in un film commedia musical davvero scontento per la premiazione a Paul Giamatti miglior attrice in un film drammatico ovviamente passiamo al versante femminile passiamo al versante drammatico il premio va a Lily Gladstone per quello che è il film Killers of the Flower Moon anche qui contentissimo davvero per lei sono contento soprattutto per il fatto che abbia ricevuto questo riconoscimento per il fatto che credo sia l'unica premiazione per il film discorsese che quindi esce un pochino con le ossa rotte da questi Golden Globe un po' come Barbie del resto che ha vinto due premiazioni di cui una è quella iniziale di cui parlavo per quanto riguarda Lily Gladstone sono contento per lei lo avevo già detto anche in sede di recensione una prova attoriale quella sua nel film discorsese che mi ha davvero conquistato mi ha emozionato e anche in questo caso bisognerà vedere che cosa succederà in ottica Oscar per lo stesso ragionamento che ho fatto per Paul Giamatti proprio perché agli Oscar avremo ovviamente un'unica categoria nella quale quindi parteciperanno diverse grandi attrici tra le quali probabilmente anche la stessa Emma Stone quindi non so se Lily Gladstone avrà la possibilità di conquistare anche l'ambita statuetta dorata però nel frattempo anche lei una soddisfazione se l'è già tolta proprio in sede di Golden Globe quindi miglior attrice in un film drammatico Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon passiamo al versante maschile miglior attore in un film drammatico il premio va a Cillian Murphy per Oppenheimer e diciamo che anche qui il mio parere non cambia devo dire che sono molto soddisfatto da queste premiazioni sono molto contento non ci sono state grandi delusioni probabilmente la più grande è quella relativa al nostro io capitano però bene o male le cose sono andate come potevano essere anche facilmente previste quindi contento anche per Cillian Murphy ovviamente un'ulteriore certificazione per quella che è la straordinaria prova che ha fornito nel film di Christopher Nolan stesso discorso staremo a vedere ovviamente in ottica Oscar chiaramente bisognerà anche qui considerare altre grandi prove attoriali che sono state fornite nel corso degli ultimi mesi basti pensare chissà a Leonardo DiCaprio basti pensare anche allo stesso Paul Giamatti quindi vedremo se agli Oscar Cillian Murphy avrà la possibilità di fare il bis aggiudicandosi tra l'altro il suo primo Oscar nel frattempo però come ho detto prima la prima soddisfazione è arrivata con il Golden Globe come miglior attore in un film drammatico procediamo poi con la migliore sceneggiatura il premio va anche qui a anatomia di una caduta ovviamente non riesco come dire a fare ulteriori considerazioni un po' come prima perché il film non l'ho visto tra l'altro ai Golden Globe non c'è la distinzione tra miglior sceneggiatura originale e miglior sceneggiatura non originale quindi qui invece abbiamo una situazione opposta rispetto agli attori un calderone nel quale partecipano diverse pellicole il premio appunto è andato ad anatomia di una caduta è ovvio che appunto in ottica Oscar ci sarà forse maggiore possibilità per diverse pellicole proprio perché avremo 5 film candidati al premio come miglior sceneggiatura originale e altri 5 per il premio invece miglior sceneggiatura non originale quindi staremo a vedere anche questo film spero di poterlo recuperare prima degli Oscar anche se non so se verrà distribuito o in streaming oppure anche in home video perché ripeto la visione in sala credo che ormai per me sia definitivamente saltata però tante miglior regista miglior regista è un'altra categoria che mi ha fatto sbirruccicare gli occhi come si suol dire perché perché per il miglior regista il premio è andato a Christopher Nolan per Oppenheimer se non sbaglio il primo premio il primo Golden Globe per questo regista che non ha ancora vinto neanche un Oscar c'è da dire quindi miglior regista Christopher Nolan per Oppenheimer anche qui devo dire contentissimo per questa premiazione va a certificare ulteriormente quello che è il grandissimo lavoro svolto da Nolan con il suo film è ovvio che bisogna considerare anche qui la presenza di tanti altri grandi registi anche in ottica Oscar c'è da dire sempre che i Golden Globe sono delle premiazioni comunque molto diverse nelle loro dinamiche ma anche già in sede di candidature e poi anche in sede di premiazione dagli Oscar perché poi le candidature agli Oscar e poi anche soprattutto le premiazioni dipendono da altri fattori anche da altre persone fondamentalmente che entreranno in gioco però bisogna dire comunque che già il premio Golden Globe per la miglior regia dato a Christopher Nolan per il film Oppenheimer davvero mi fa essere felicissimo per lui quindi miglior regista Christopher Nolan quindi si fa il tifo anche per lui per quanto riguarda gli Oscar poi passiamo alle ultime due categorie le due categorie regine mettiamola così perché perché abbiamo la categoria miglior film commedia o musical ovviamente anche qui ritorna la distinzione e in questo caso la premiazione è andata o meglio il premio il Golden Globe è andato a povere creature di Yorgos Lantimos stesso discorso di prima film che ancora deve uscire deve arrivare quindi non mi posso sbilanciare più di tanto per quanto riguarda appunto il commento anche se anche in questo caso bene o male la come dire le previsioni erano tutte orientate verso il film di Lantimos a dispetto invece di Barbie lasciatemelo dire si godicchia un pochino perché il film Barbie io non l'ho apprezzato però ecco per quanto riguarda povere creature di Lantimos sia come dire si afferma nella categoria miglior film commedia staremo a vedere ovviamente anche questo come si evolverà la situazione in ottica future premiazioni miglior film drammatico invece anche qui abbastanza prevedibile Oppenheimer di Christopher Nolan e quindi chiudiamo questa carrellata di considerazioni di commenti per quanto riguarda le premiazioni cinematografiche ai Golden Globe voglio soltanto davvero ritagliarmi qualche secondo soltanto per commentare tre premi per quanto riguarda invece il mondo delle serie tv per quanto riguarda una serie che ho visto fondamentalmente l'unica serie forse che ho visto tra quelle che sono state premiate cioè The Bear chiaramente serie che potete trovare su Disney Plus e perché dico questo perché la serie si è aggiudicata innanzitutto il premio come miglior serie tv comedy quindi anche per le serie tv c'è la distinzione tra drammatico e commedia quindi miglior serie tv comedy poi si è aggiudicato anche il premio come miglior attore in una serie tv comedy per Jeremy Allen White il protagonista ovviamente miglior attrice in una serie tv comedy e cioè Ayo Edebiri la coprotagonista ovviamente e credo basta esatto quindi questi tre premi importanti comunque bisogna dire per quanto concerne The Bear una serie tv che ho amato per quanto riguarda le stagioni che già sono state pubblicate quindi non posso far altro che attendere le prossime stagioni per vedere come la storia si evolverà quindi volevo darvi anche questo piccolissimo commento in ambito serie tv scusate davvero per la voce che sta lentamente abbandonandomi e per questo motivo quindi vado in chiusura fatemi sapere che cosa ne pensate voi fatemi sapere che cosa che cosa ne pensate delle premiazioni che vi ho elencato se siete d'accordo non siete d'accordo se avreste preferito magari altre vittorie tutte quelle che sono le vostre considerazioni fatemele avere qui sotto nei commenti perché come sempre vi leggerò e vi risponderò molto molto volentieri io vi ringrazio di cuore per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto perché così mi aiuterete a far crescere il canale attivate la campanella poi vi ricordo anche di supportare questo video se vi sarà piaciuto con un like con un commento come appunto vi ho spiegato condividendolo ovunque vogliate vi ricordo in descrizione trovate poi un link amazon da poter usare per fare qualunque vostro acquisto perché voi non spenderete un centesimo in più ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata da amazon al sottoscritto poi trovate la wishlist amazon se volete farmi un regalo e poi trovate i link della mia pagina instagram della mia pagina facebook del mio canale telegram se volete mi potete seguire anche lì e poi delle ulteriori modalità se volete fare delle piccole donazioni al canale qualora lo vogliate io vi ringrazio nuovamente noi ci becchiamo in un prossimo video in una prossima video recensione in una delle tante rubriche che sto portando avanti nel mio canale io come sempre vi auguro come sempre vi auguro anche una buona continuazione di giornate ci vediamo presto ciao a tutti